Per la cavese la quarantena fiduciaria scade venerdì, dopo il caso di positività al nuovo coronavirus individuato circa due settimane fa. Oggi sono previsti i tamponi faringei, domani i test sierologici e se almeno dai tamponi di quest'oggi non verranno fuori altri casi di contagio, la squadra prevede di partire finalmente sabato per il ritiro di Nusco. I metelliani sarebbero in ritardo di due settimane rispetto alla tabella di marcia, ma comunque hanno fino a questo momento evitato eventuali ulteriori casi. In attesa che la federazione possa emanare un nuovo protocollo aggiornato alla situazione epidemiologica attuale, la cavese altro non può fare che applicare il protocollo in vigore, con tamponi ogni quattro giorni ai tesserati. Ma al di là del ritardo sulla tabella di marcia accumulato dai bianco-blu, anche lo stesso campionato di Serie C potrebbe veder slittare la data di inizio. Tutto questo a causa del processo sportivo al Bitonto e al Picerno, accusate di avere addomesticato una partita con giro di danaro. Il Picerno fu promosso in C, vincendo quella gara un anno fa. E il rischio rinvio c'è anche a causa della possibile agitazione dell'AIC contro la recente normativa sulle liste chiuse. In casa cavese c'è anche un nuovo medico. Il dottor Andrea Massa ha lasciato per ragioni professionali, così come il masso fisioterapista Davide Bisogno. Pertanto il nuovo responsabile sanitario è il dottor Vincenzo Rosciano, specializzato in medicina dello sport e già con un incarico nel calcio come medico dell'Avellino. Al 13, nuovi allenatori per il Catania e il Potenza. In Sicilia va Pino Raffaele, ex tecnico dell'Akragas e dell'Igia Virtus, che al Potenza viene sostituito da Mario Somma, l'inventore del 4-2-3-1 con gli esterni a piede invertito e il centrocampista dietro alle punte, che diversi anni fa aveva guidato la cavese alla conquista di un titolo nazionale di Serie D e aveva vinto il girone I proprio con i metelliani, portando la squadra in C2. Anche la Viterbese ha assunto un ex tecnico della cavese, si tratta di Agenore Maurizzi. Nuovo allenatore anche per il Palermo, si tratta di Roberto Boscaglia, presentato questa mattina nel capoluogo siciliano. Il Bari ha indicato in Gaetano Auteri il profilo più idoneo per il ruolo di allenatore, mentre il Perugia potrebbe prendere uno tra Vincenzo Vivarini e Fabio Caserta. Il Teramo assumerà un nuovo tecnico perché Cetteo Di Mascio è tornato a coordinare le giovanili, ma la notizia più particolare giunge da Catanzaro, dove gli allenamenti sono stati sospesi per via di un probabile caso di coronavirus all'interno della squadra e nelle prossime ore si avranno gli accertamenti. In caso di ulteriore positività alle controanalisi scattano le due settimane di quarantena tra i giallorossi.